Perché il corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura del campus di Cesena prepara un professionista specializzato aperto a disparati sbocchi lavorativi, dall'attività come libero professionista al funzionario nelle pubbliche amministrazioni e soprintendenze, come insegnante o come occupato presso l'industria delle costruzioni e dell'interior design. Perché il corso di studio fornisce allo studente gli strumenti per la formazione delle competenze necessarie e per svolgere la professione di architetto con una laurea riconosciuta a livello europeo. Perché studiare architettura è immaginare il futuro delle abitazioni, delle città, del territorio e del patrimonio storico. Al campus di Cesena si studia con professori di alta formazione come affrontare il progetto di architettura, di restauro e di urbanistica dal punto di vista della costruzione, della tecnologia e della normativa, secondo una visione della professione. La struttura didattica di Cesena prevede per i 5 anni di corso insegnamenti laboratoriali sul progetto di architettura in cui gli studenti possono apprendere e sperimentare nuove forme e luoghi degli spazi architettonici urbani del vivere contemporaneo. Perché forma un professionista specializzato nelle attività legate all'architettura e nei suoi diversificati aspetti. La nostra laurea fornisce competenze nei campi della progettazione architettonica, del restauro, della tecnologia e dell'urbanistica mediante una preparazione che fa dei saperi umanistici quali ad esempio la storia, l'estetica e la composizione architettonica il proprio punto di forza. Nel nostro corso inoltre vi è un rapporto numerico a docenti e studenti molto buono e questo da modo di poter apprendere e lavorare a stretto contatto con il corpo docente. Ogni anno vengono invitati come visiting professor architetti stranieri a tenere un laboratorio di progettazione architettonico, proiettando gli studenti verso una dimensione europea del fare architettura. Perché gli spazi della laurea in architettura di Cesena sono all'avanguardia e ricchi di dotazioni quali laboratori didattici in cui ogni studente ha una propria postazione di lavoro a disposizione dal lunedì al venerdì, dotata di alta connettività e di strumenti multimediali. Questo è uno standard da università privata di stampo anglosassone. Vi sono ampi laboratori di fotografia con camera oscura, di materiali, di modellazione tridimensionale e per la costruzione di modelli fisici con macchinari all'avanguardia che permettono di realizzare le proprie idee ottenendo dei risultati eccellenti e di alto livello professionale. Tutto ciò consente alle nostre laureate e laureati di formarsi un curriculum di alto profilo professionale molto apprezzato nei luoghi di lavoro. Non ultima motivazione è perché il nostro corso risulta il migliore nei sondaggi degli studenti e dal nostro punto di vista è il risultato più soddisfacente che ci si possa aspettare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!